carissimi pace del signore buona giornata oggi è 2 febbraio leggiamo nel libro della genese al capitolo 8 i versi da 15 fino a 22 è un passo dove notiamo che dio parla a noè e gli dice di scendere dall'arca lui con sua moglie con i suoi figli e con tutti quanti gli animali è importante considerare il fatto che dio parla in ogni tempo dio ha parlato all'uomo lo ha fatto prima di noè ad esempio abbiamo il signore che parla a caino quando il suo volto era battuto e in cuor suo stavano maturando tutti i sentimenti peccaminosi contro suo fratello abele che lo avrebbero portato ad ucciderlo dio parla ad abramo in dopo noè dio parlerà a isacco a giacobbe dio parlerà a mosè dal pruno ardente dio parlerà a davide a salomone dio parlerà per mezzo di gesù cristo durante gli anni del suo ministerio sulla terra dio parlerà a saulo mentre era sulla via di damasco dio parla continua a parlare ad ogni uomo ad ogni donna chiamandoli a sé perché il desiderio di dio è che è che tutti gli uomini possono essere salvati e ancora oggi dio parla anche mediante i suoi ministri gli evangelisti i dottori gli apostoli eccetera eccetera non solo per chiamare il ravvedimento ma anche per edificare la sua chiesa e per poter portare i credenti ad essere degli uomini maturi e compiuti e assennati saggi nelle sue vie dio parla e dio ci aiuti a saper ascoltare la voce di dio d'altronde gesù che è dio presentò se stesso anche come il buon pastore e disse che le sue pecore ascoltano la sua voce il che vuol dire che egli parla ma vuol dire anche che le pecore sono pronte ad ascoltare la sua voce ad ubbidire alla sua voce non siate uditori dimentichevoli dirà giacomo o meglio scriverà giacomo nella sua epistola ma siate facitori della parola gesù ancora prima disse voi che sapete queste cose siete beati se le fate si dio parla e parla finché noi ubbidiamo e infatti no è quando gli venne detto di scendere dall'arca questo fece lui e la sua famiglia e no è costruì un altare lo leggiamo questo al verso 20 e prese degli animali e li offrì in olocausto sull'altare credo che era un riconoscere la grandezza di dio la sua potenza la sua autorità credo che era anche un ringraziamento a dio che lo aveva preservato da quel terribile giudizio che si era abbattuto sulla terra un dio che lo aveva custodito mentre il diluvio continuava a scendere sulla superficie della terra un dio che gli aveva dato la gioia di poter scendere dall'arca e di poggiare i suoi piedi sulla terra asciutta dopo quel lungo tempo che era rimasto sull'arca dio ci aiuti ad avere un cuore riconoscente per tutti i benefici che noi riceviamo dal signore anima mia benedice il signore non dimenticare alcuno dei suoi benefici non dimenticarlo in modo da poter alimentare la fede ma non dimenticarlo anche per ringraziarlo del continuo come sacrificio offre a dio il ringraziamento dice la parola quando gesù guarì dieci lebrosi e vide che soltanto uno tornò indietro per ringraziarlo disse gli altri o il signore possa vedere che ognuno di noi quando riceviamo da lui un beneficio colliamo ai suoi piedi per ringraziarlo siamo troppo abituati a chiedere e poco propensi ad apprezzare i benefici che riceviamo dal signore sapete se apprezziamo ciò che dio fa per noi lo ringrazieremo ma se non lo ringraziamo probabilmente siamo poco propensi ad apprezzare quello che dio ha fatto e credo che il sacrificio che gesù ha fatto sulla croce è qualcosa che ci dovrebbe spingere ogni giorno a dire grazie signore perché quello che nessun uomo avrebbe potuto mai fare cioè riscattare l'anima sua cristo l'ha compiuto lì sulla croce duemila anni fa ecco perché nell'apocalisse leggiamo che nel cielo o il nome dell'agnello viene innalzato benedetto e glorificato perché lì c'è una visione chiara di quello che egli ha fatto e noi che abbiamo goduto dei benefici del sacrificio dell'agnello vogliamo avere un cuore grato vogliamo che ancora oggi salga un profumo d'odorso ave ogni qualvolta offriamo il culto al signore e questo avverrà se noi lo ringrazieremo e se noi lo benediremo con tutto il cuore offerse no è perché voleva ringraziare dio voleva celebrare il signore e altrettanto dobbiamo fare noi come stavo dicendo e questo fu talmente gradito a dio che dio disse in cuor suo io non maledirò più la terra motivo dell'uomo perché il cuore dell'uomo concepisce di segni malvagi fin dall'adolescenza ma non colpirò più ogni essere vivente come ho fatto anzi finché la terra durerà semina raccolta freddo caldo estate inverno giorno e notte non cesseranno mai la potenza del ringraziamento ecco ancora oggi noi vogliamo come popolo di dio essere riconoscenti e vogliamo come popolo di dio essere ubbidienti e vogliamo come popolo di dio essere la voce di dio in un mondo che vive lontano da lui affinché tutti possono sapere che c'è salvezza sull'arca che è cristo gesù e che questa salvezza è offerta gratuitamente a chiunque desidera ricevere vita eterna dio ci benedica ci accompagni e sia con ognuno di noi di noi durante questa giornata pace del signore